In Italia, come è noto, ci sono almeno 5 milioni di cittadini che studiano o lavorano in una regione diversa da quella del comune di residenza. Più o meno il 40% di questi impiegano più di 4 ore per raggiungere il proprio luogo di residenza. L'Italia è l'unico paese, l'unico grande paese europeo, gli altri sono Cipro e Malta, non riconoscere la possibilità ai propri cittadini di votare nella città in cui vivono in occasione delle elezioni politiche. Più Europa aveva presentato una proposta di legge già nella scorsa legislatura, poi in questa per consentire il cosiddetto voto fuori sede. Nel luglio 2023 la maggioranza d'accordo con il Governo, nel corso dell'esame di quella proposta e di altre proposte, un esame abbinato, ha deciso di trasformare quelle PDL in una delega al Governo. Sono trascorsi 11 mesi, ancora non è avvenuto l'esame in seconda lettura al Senato. A questo punto mancano 5 mesi alle elezioni europee. Chiediamo se il Governo non intenda, come fa su molte altre questioni, adottare un provvenimento d'urgenza per consentire ai cittadini fuori sede, ripeto, oltre 5 milioni, di esercitare il diritto di voto nel luogo dove lavorano o studiano. Grazie. Ho posto tenuto conto che le elezioni europee si svolgeranno l'8 e il 9 giugno prossime, e che il 20 aprile è il termine ultimo per l'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. I tempi, effettivamente, per l'esercizio della delega legislativa e per i conseguenti adempimenti tecnici e organizzativi appaiono oggettivamente ristretti anche in ragione del fatto che in materia elettorale è indispensabile intervenire con estrema precisione sotto il profilo tecnico, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza del voto, che sono principi importanti, tanto quello di favorire la maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali. Purtroppo non è come dice il Ministro, i tempi non sono ristretti. Avete lasciato, Governo e maggioranza, che i tempi diventassero ristretti, perché dal momento dell'approvazione alla Camera dei Deputati di quella delega al Governo sono trascorsi 11 mesi e ancora non è iniziato l'iter in Commissione. Da quello che mi risulta, ieri è stato nominato un relatore nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Eppure la maggioranza, insieme al Governo, avevano deciso di trasformare quelle proposte che erano proposte ai parlamentari articolate in una delega al Governo e avevano detto al Parlamento che la materia è talmente delicata e talmente tecnicamente anche sensibile che ce ne occuperemo noi. Abbiamo visto però come non ve ne state occupando. Qual è la considerazione amara, triste che viene fuori? Che purtroppo questo Governo ha una visione della democrazia un po' riduttiva, un po' semplificata. Si ritiene che sia democratico promuovere una riforma costituzionale sul Premierato con l'elezione diretta e però si lasciano fuori 5 milioni di possibili elettori. Noi avevamo annunciato, e concludo Presidente, che avremmo marcato stretto il Governo. Lo avevamo annunciato in occasione di quella votazione di quella delega perché in realtà il Governo ci aveva detto che ci sono degli impedimenti tecnici. Quegli impedimenti tecnici si rimuovono e si superano solo con una volontà politica. Quella volontà politica ancora noi non l'abbiamo vista. Noi continueremo mese dopo mese a fare delle interrogazioni su questo punto. La delega dà tempo 18 mesi al Governo. Sapete cosa significa? Che se aspettiamo ancora un po', la delega sforerà nella prossima legislatura e il rischio è che noi non vedremo la possibilità per i fuorisede di votare neanche per le elezioni del 2029. Grazie.